segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te che si trova sul campo si trova a kharkiv se non sbaglio vero fabio buongiorno si buongiorno gaia esattamente buona te buongiorno ai tuoi ospiti beh sono molte le cose oggi da raccontare allora io mi trovo nella seconda città del paese la scenografia per così dire che ho scelto per questo collegamento lo vedete un palazzo del centro questa è piazza della costituzione si chiama è una delle piazze principali di questa città che vi ricordo la seconda del paese e direi che le immagini della distruzione di questo palazzo sono più che emblematiche mentre vi parlo è una cronaca che vi do in diretta si sentono le esplosioni qui intorno perché questa città da qualche giorno è rientrata nuovamente sotto l'offensiva russa ieri sera siamo tornati in albergo dopo il collegamento ed è andata via la corrente per diversi minuti perché si sono viste due potenti esplosioni poi abbiamo visto sono state colpite alcune zone periferiche della città questo per quanto riguarda la situazione qui reale in questo momento che stiamo vivendo ma la situazione sembra inaspirsi ulteriormente ancora dopo tutte queste settimane di conflitto per quanto riguarda tutto il paese ormai le sirene suonano non soltanto in alcune località ma da nord a sud per intenderci da Leopoli a Odessa senza considerare naturalmente la zona del Donbass o di Mariupol tra l'altro c'è da ricordare da sottolineare che è partita anche una sorta di controffensiva ucraina nonostante appunto la preponderanza delle forze armate di Mosca perché il governatore di Severodensk Gaiai ha detto guardate che fino a due giorni fa i russi controllavano il 70 per cento della città siamo riusciti a ribaltare questa situazione adesso la città è sostanzialmente divisa in due parti equamente divisa per così dire tra i due e belligeranti e poi c'è da registrare ancora un'altra notizia importante quella dell'uccisione di un generale russo Kutuzov era una pedina molto importante nello scacchiere militare di Mosca e porta così a circa 10 il numero dei generali di alto rango uccisi durante questo conflitto insomma sembra essere sempre più una guerra stop and go dove soprattutto però va sottolineato la diplomazia sembra avere davvero le armi spuntate poi come ricordavi tu e poi ti restituisco naturalmente la linea Putin ha parlato hanno trasmesso una intervista del presidente che era stata registrata venerdì scorso e ha puntualizzato proprio la politica miope dell'occidente dell'Europa rispetto alle risorse energetiche insomma lo scenario naturalmente aperto ma soprattutto non si vede la luce in fondo al tunnel per il momento è tutto a te Gaia grazie Fabio grazie buon lavoro naturalmente ti ritroveremo come sempre nel telegiornale allora professor Magri